Buonasera, benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Telestense. Domenica 1 marzo naturalmente è un aggiornamento per quanto riguarda il coronavirus. A Ferrara ancora nessun contagiato, salgono quelli in regione, salgono purtroppo anche i morti, pazienti chiaramente già complessi, però cominciano a segnalarsi anche le prime cuarigioni. Molte persone, lo ricordiamo, sono a casa in isolamento. Poi parleremo anche del referendum costituzionale che si dovrebbe tenere almeno domenica 29 marzo. Cercheremo di capire per cosa si vota e qual è la domanda alla quale si dovrà porre un sì oppure un no. Intanto a Ferrara si è già presentato il primo comitato per il no. Poi parleremo di imprese. È uscito nei giorni scorsi un bando importante della Camera di Commercio per sostenere soprattutto le aziende. in questo periodo già difficile che si è aggravato ulteriormente anche per l'emergenza del coronavirus. Poi parleremo anche di sport in questa giornata un po' strana con diverse partite che non si sono giocate. Nella puntata speciale di match durante la quale si è parlato di sport e anche di altro. Allora dicevamo apriamo però con un aggiornamento per quanto riguarda i casi di coronavirus perché salgono a 285 le positività al virus in Emilia Romagna su 1795 test refertati. Rimane Piacenza la provincia più colpita con 174 casi, 59 sono a Parma, 2 Ravenne, mentre non ci sono nuovi casi a Modena che resta fermo a 24, a Rimini che ne registra 16, a Reggio Emilia che ne registra 7, a Bologna 2 e a Forlice-Sena 1. Va sempre tenuto presente che questi dati si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi. Dicevamo per quanto riguarda Ferrara e provincia quindi ancora nessun caso di coronavirus. In regione invece salgono ai 5 decessi già avvenuti, se ne aggiungono 3, 2 uomini a Parma rispettivamente di 79 e 76 anni già affetti da diverse patologie residenti nel Parmense ricoverati in ospedale e un uomo di 74 anni affetto anch'esso da gravi patologie residente però in provincia di Piacenza e ricoverato in ospedale. La maggioranza delle persone continua a presentare sintomi modesti, 24 non hanno alcun sintomo e 137 quasi la metà stanno seguendo il previsto periodo di isolamento a casa perché non hanno bisogno, lo ricordiamo, di cure ospedaliere. Sono invece 13 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Intanto si rafforza il numero dei presidi a protezione degli operatori sanitari e anche per la sicurezza dei cittadini che accedono alle strutture sanitarie che serviranno così a dividere già all'ingresso i pazienti con possibili sintomi da coronavirus dagli altri. La protezione civile dell'Emilia-Romagna ha infatti predisposto oltre ai 3 già allestiti nel Piacentino a quello davanti al pronto soccorso dell'azienda ospedaliera di Parma e a quello in ingresso all'ospedale Santa Maria di Reggio Emilia, 9 nuovi moduli provvisori per il triage dove poter sottoporre le persone alle prime valutazioni delle condizioni generali e di esposizione prima di accoglierle all'interno dei servizi ospedalieri. E sono in corso sopralluoghi per la verifica del posizionamento di ulteriori punti di pre-triage anche nelle altre rimanenti strutture delle regioni, tra cui anche quelle del ferrarese oltre a quella del bolognese in Romagna, perché si sta appunto prevedendo una modalità di installazione rapida al crescendo, dicevamo, numero di casi. E il coronavirus chiaramente si abbatte, come abbiamo già avuto occasione di dire, anche sull'economia regionale e arriva intanto nel primo commento di Cigelle Cislewil dell'Emilia-Romagna contro il decreto del Consiglio dei Ministri che, secondo i sindacati, non tutela i lavoratori dell'Emilia-Romagna ha un fatto gravissimo, sottolineano i sindacati che chiedono lo sblocco della cassa in deroga in tempi rapidi, in mancata del quale valuteranno iniziative di mobilitazione. Il decreto varato dal Consiglio dei Ministri per affrontare le conseguenze dell'emergenza coronavirus non prevede interventi a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori al di fuori delle cosiddette zone rosse e ciò vuol dire che questo primo provvedimento non prevede interventi a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dell'Emilia-Romagna che, per ragioni direttamente o indirettamente collegate all'emergenza, non possono lavorare. È l'allarme unitario dei sindacati dell'Emilia-Romagna per Cigelle Cislewil. La mancanza di questi interventi è un fatto gravissimo che lascia nell'incertezza migliaia di persone in Emilia-Romagna. Nei giorni scorsi abbiamo con forza chiesto lo sblocco di risorse già esistenti e disponibili a livello regionale proponendo un intervento che non prevede ulteriori stanziamenti da parte del Governo. La forte richiesta al Governo è che si autorizzi l'utilizzo dei fondi residui e non utilizzati dalla cassa in deroga, un provvedimento che metterebbe in condizione di garantire il salario e l'occupazione, un intervento continuano i sindacati necessario da attuare in tempi rapidi perché ogni ulteriore ritardo sarebbe inaccettabile e irresponsabile. In mancanza di questo, Cigelle Cislewil e Emilia-Romagna valuteranno quali iniziative di mobilitazione mettere in campo. Il Partito Democratico di Ferrara sta promuovendo in questi giorni una raccolta di prodotti esclusivamente per l'igiene intima e la detergenza del corpo da destinare alla casa circondariale di Ferrara ma anche all'associazione di volontariato che si occupano del contrasto dalla povertà a seguito dell'emergenza coronavirus e dei provvedimenti presi per contrastarlo. Ci segnalano in queste ore la carenza di prodotti per la cura personale a seguito anche dell'esaurimento delle scorte dei magazzini, spiega il direttivo del Partito Democratico Cittadino che chiede la collaborazione di tutti i ferraresi. Il materiale si potrà consegnare lunedì 2 marzo al circolo del PD di via Ortigara. Cronaca ha tentato di farsi giustizia da solo colpendo più volte il presunto truffatore e per questo è stato denunciato. Il pestaggio è avvenuto venerdì pomeriggio in città. Ha afferrato il suo presunto truffatore per la sciarpa e ha iniziato a colpirlo con pugni al volto, al collo e al torace e per questo è stato denunciato dalla polizia di Ferrara. A finire nei guai un uomo di 38 anni, di nazionalità turca, residente nella provincia di Rovigo, che tramite la cognata, una ragazza di Ferrara, a maggio dello scorso anno si era rivolto ad un interprete per tradurre un certificato penale. La giovane donna si era rivolta ad un esperto di lingue per la traduzione del certificato necessario per la presentazione della richiesta di acquisizione della cittadinanza italiana del cognato di nazionalità turca. Al traduttore aveva consegnato, oltre al documento, anche 60 euro per la prestazione, ma poi l'uomo si era reso irreperibile. Così, con un espediente, l'interprete è stato contattato venerdì mattina dal cittadino turco, fissando un appuntamento in città Ferrara in un bar. E' arrivato nel luogo dell'incontro e è nato il diverbio tra i tre. Aggredito dal 38enne, l'interprete è riuscito a sfuggire alla presa grazie all'intervento di alcune persone, le quali, dopo aver bloccato l'aggressore, hanno chiamato la polizia. Agli agenti, il presunto interprete, ha raccontato che lo stesso giorno in cui fu contattato dalla ragazza ferrarese, aveva fatto presente che il certificato in questione era privo della postilla turca, oltre ad essere prossimo alla scadenza. E a questa sua osservazione, la donna avrebbe risposto che si sarebbe procurata un nuovo certificato, ma che poi in seguito non aveva più avuto contatti con lei. Una vicenda che si è conclusa venerdì mattina, con il diverbio trasformatosi in un pestaggio e con una denuncia nei confronti del 38enne turco, che ora deve rispondere per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Ora parliamo del referendum sul taglio dei parlamentari, per cui il Governo ha indicato la data di domenica 29 marzo, insomma dovrebbe tenersi coronavirus, emergenza coronavirus permettendo, insomma sembra proprio che si terrà domenica 29 marzo, e sarà il quarto referendum costituzionale confermativo della storia della Repubblica. Vediamo allora di che cosa si tratta in questo servizio. Domenica 29 marzo gli italiani saranno chiamati a votare per il quarto referendum costituzionale della storia repubblicana. Si vota per il taglio dei parlamentari, che riduce i deputati che passerebbero da 630 a 400 e i senatori che dagli attuali 315 si ridurrebbero a 200. Per i deputati eletti nei collegi esteri si passa da 12 a 8 e per i senatori da 6 a 4, mentre l'istituto dei senatori a vita è conservato a 5 con il numero massimo. Votare è semplice, si vota sì se si vuole tagliare il numero dei parlamentari, si vota no se si vuole mantenere la situazione attuale. Quello del 29 marzo è un referendum confermativo e non necessita nessun quorum per la sua approvazione. A differenza dei referendum abrogativi, per la validità del referendum costituzionale non è obbligatorio che vada a votare la metà più uno degli elettori a 20 diritto. Ai cittadini viene sottoposta la riforma costituzionale votata dal Parlamento, che quindi non sarà promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi, indipendentemente da quante persone si recheranno ai seggi. Il referendum costituzionale del 29 marzo è il quarto della storia repubblicana. Nei tre precedenti, due volte la legge approvata dal Parlamento senza la maggioranza dei due terzi è stata respinta dagli elettori, la cosiddetta devolution bocciata dagli italiani nel 2006 e dieci anni dopo la riforma del superamento del bicameralismo perfetto del 2016. Una sola volta la legge approvata dal Parlamento senza la maggioranza dei due terzi è stata approvata diventando legge costituzionale, la riforma del titolo quinto della Carta Costituzionale nel 2001. Si chiamerà comitato per il no al populismo costituzionale e comitato appunto nato a Ferrara su guida di Più Europa. Siamo l'unico partito che ha il coraggio di dire no al taglio indiscriminato dei parlamentari, che ha il coraggio di intestarsi una nobile battaglia in difesa della politica e delle istituzioni repubblicane, spiega Mario Zamorani, coordinatore di Più Europa Ferrara, che sottolinea le ragioni in merito al no referendum che si terrà il prossimo 29 marzo. Siamo tutti d'accordo sulla necessità di una riforma complessiva del sistema che tra le altre cose provveda ad eliminare privilegi e disfunzioni, spiega Zamorani, ma tagliare le poltrone non renderà più funzionale la rappresentanza parlamentare, spiega il coordinatore di Più Europa Ferrara. Così si stravolge l'assetto istituzionale parlamentare del Paese in nome del risparmio, ma ricordiamo che il risparmio per ogni italiano sarebbe più di un caffè all'anno, conclude Zamorani. Approvate nei giorni scorsi dalla Giunta della Camera di Commercio di Ferrara le nuove linee del bando multidisciplinare per la crescita e la competitività delle imprese ferraresi. Vediamo di che cosa si tratta nel servizio. Un milione di euro per sostenere le assunzioni a tempo indeterminato, consolidare le imprese esistenti, favorire la creazione di reti, distretti e filiere, aumentare i progetti di ricerca e la diffusione delle tecnologie 4.0, supportare le esportazioni e la nascita di nuove imprese. Sono gli aiuti in arrivo alle imprese grazie al bando multidisciplinare per la crescita e la competitività della Camera di Commercio di Ferrara, che aprirà prima dell'estate. Un forte sostegno alle imprese anche nei canoni d'affitto, utenze di luce, acqua e gas funzionali alle attività aziendali, ma anche gli investimenti per ampliare la capacità produttiva dell'impresa, per la riqualificazione degli spazi dedicati alla produzione e alla commercializzazione e per le spese per l'installazione di impianti di videosorveglianza e di allarme. Una vera e propria alleanza, quella che sarà rinnovata, per il tramite di un apposito protocollo d'intesa tra Camera di Commercio, Comuni, organizzazioni delle imprese industriali, artigianali, commerciali, agricole e delle cooperative, e le organizzazioni sindacali, per salvaguardare la tenuta delle imprese e dell'occupazione. Ringrazio a gran voce tutti i sindaci del territorio, che ancora una volta hanno riposto fiducia ed entusiasmo nel lavoro della Camera di Commercio, ha sottolineato Paolo Govoni, presidente dell'ente di Largo Castello, che ha ricordato che nel 2019 sono stati generati investimenti per oltre 5 milioni e mezzo di euro a fronte di un contributo pubblico di 633.032,41 euro. La preziosa disponibilità dei sindaci a cofinanziare l'intervento e dunque ad incrementare le risorse stanziate della Camera di Commercio permetterà una maggiore qualificazione dei progetti di investimento presentati dalle imprese, con l'obiettivo di far fronte agli effetti di una crisi aggravata dall'emergenza epidemiologica del coronavirus, che sta colpendo buona parte delle imprese della provincia con danni pesantissimi in tutti i settori economici. La legge di bilancio dello Stato approvata in Parlamento lo scorso dicembre ha sbloccato 62 milioni di euro per l'idrovia ferrarese. Una buona notizia spiega Assonautica Ferrara, da sempre in prima linea per la realizzazione di questa infrastruttura. 62 milioni di euro per la realizzazione dell'asta fluviale che va dalla conca di Ponte Lago Scuro sino a Porto Garibaldi. Sono i fondi in arrivo dall'idrovia ferrarese, dopo che lo scorso dicembre la legge di bilancio dello Stato ha sbloccato l'avanzo di bilancio della regione Emilia-Romagna. Una notizia positiva per Assonautica Ferrara, da sempre in prima linea per la realizzazione dell'infrastruttura che con lo sblocco dei fondi ora potrebbe veder ripartire un progetto iniziato da tempo. Dovrebbe essere la volta buona, la volontà politica e la volontà istituzionale. C'è tutta, i denari ci sono, sono rimasti bloccati per i nostri miracoli della burocrazia, fatto di stabilità, è stato superato, ci complimentiamo con chi ha creato questo sblocco. Adesso si tratta di intervenire in maniera organica, recuperando il percorso nel proprio insieme, consentire di passare gli ostacoli storici, quali conca di Vallelepri, eccetera, per creare il percorso, quantomeno dall'aspetto turistico, in maniera da rilanciare un po' il nostro territorio e anche, diciamo, dall'aspetto ambientale, perché non possiamo presentare una città come Ferrara in queste condizioni sul lato fiume. Quello deve divenire il salotto buono della nostra città, c'è la volontà degli amministratori di arrivare a questo, noi facciamo tanti auguri e ci mettiamo a disposizione per ogni forma di collaborazione affinché si arrivi al risultato. Dalla messa in sicurezza idraulica alla valorizzazione turistica del territorio con priorità come quella della Darsena di San Paolo. Indubbiamente bisognerà riattivare tutto, adesso non è sull'idrovia, è sul po' di volano, il ponte di massa fiscaglia, che è perfetto, l'abbiamo fatto in anni Ottanta, col fatto che è rimasto compreso tra due blocchi a Migliaro e a Tieni, non è mai stato, tra virgolette, aperto, avrà bisogno di una rinfrescata, di un restyling, anche molto probabilmente. Così pure tutto il resto è funzionante, le opere che sono state fatte sono recenti, vedi il ponte di Ostellato, vanno perfezionate, vanno meccanicizzate sovente, ma le risorse ci sono, poi sono risorse che possono essere implementate poiché l'orientamento dell'Unione Europea e di tutto il resto del mondo è di prestare il massimo di attenzione ai fiumi. Roberto Gatto, Fabrizio Puglisi e Marta Raviglia sono i tre nuovi docenti del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara. Si tratta di tre affermati jazzisti della scena concertistica italiana e internazionale che da quest'anno accademico porteranno la loro esperienza e professionalità al servizio del Conservatorio Ferrarese. A Roberto Gatto è stato affidato l'insegnamento di batterie e percussioni jazz, a Marta Raviglia l'insegnamento di canto jazz, mentre l'insegnamento di pianoforte jazz spetterà a Fabrizio Pugliesi. Oggi, come dicevamo in apertura, una puntata speciale di match dove si è parlato delle conseguenze di questa emergenza coronavirus sul settore sportivo. Tra gli altri erano presenti in studio Alessandro Sovrani e Mauro Cavina che hanno espresso considerazioni a riguardo. Ricordiamo che naturalmente c'è stato lo stop ai campionati e per questo motivo domani sera non andranno in onda su telestense né basket-in né lunedì sport. Però sentiamo un passaggio della trasmissione di oggi pomeriggio. C'è una serie di priorità. Quella assoluta che parte dalla salvaguardia della salute della popolazione in questo momento diciamo italiana. Quindi il primo step è questo, cioè capire quali sono gli antidoti da utilizzare per evitare che il virus si propaghi. Da qui poi scendiamo nella seconda situazione. È stato giusto bloccare quasi totalmente il campionato? Sarebbe stato più giusto giocare a porte aperte? Perché poi dobbiamo anche prendere in considerazione un altro dato molto importante per quanto riguarda lo sport italiano. ed è quello che è relativo ai tifosi. Perché si dice ah sì, giochiamo a porte chiuse e salvaguardiamo in parte la regolarità del campionato. Perché anche in questo caso dobbiamo parlare in parte. Perché io gioco in casa, ho la possibilità di aver garantito il supporto di una grande maggioranza dei tifosi rispetto a quelli che mi arrivano da fuori. quindi anche in questo caso c'è da parlare di regolarità o più o meno una falsificazione di quelle che sono poi le realtà calcistiche. Quindi queste sono le tre dati di fatto. Personalmente ritengo che si potesse anche ipotizzare di bloccare il campionato ma interamente per un turno. Valutare la situazione senza avere esagerata fretta e capire quale sarebbe stata la strada migliore da poi imboccare. Mi pongo tante domande ci siamo posti tutti tante domande in questi giorni. Partiamo dai tifosi che sono emigrati ieri ad esempio da Bologna sono andati all'Olimpico per seguire la gara tra la formazione di Mialovic e la Lazio. Questi non possono avere con loro visto che sta in incubazione 15 giorni il virus i tifosi dell'Atalanta che oggi sta giocando a Ricce gara che ha avuto inizio da 7 minuti siamo ancora sullo 0-0 poi l'altra cosa che mi chiedo è ma il calcio di serie B ce lo siamo chiesti tutti è diverso da quello di serie A ieri si è giocato a Cittadella a Verona e a Venezia Cittadella in linea d'aria è circa 20 km da Vaux e Uganio il calcio di serie C tutto bloccato eccezionale fatto per quanto riguarda le partite che si giocano al sud quindi c'è tutta questa serie di situazioni che da qualsiasi lato tu le vada a leggere le puoi interpretare in modo positivo oppure le puoi leggere in modo negativo di certo c'è che qui si va verso un campionato che potrebbe essere falsato io mi auguro che le ultime indicazioni che sono arrivate anche perché oggi c'è stata una riunione in Lega la riunione tra l'altro telefonica anche qui non si è capito perché poi chi è nella stanza dei bottoni della Lega non potesse raggiungere Milano comunque vabbè diciamo che con le tecnologie odierne si può fare di tutto e si sta cercando di trovare soluzioni alternative a quella data a metà maggio al 13 maggio per lo meno per le squadre che non sono impegnate nelle competizioni europee per sì che le partite vengano recuperate in anticipo quindi per dare più continuità al campionato è chiaro che anche questo poi comporterebbe per lo meno il tipo di Parma che deve recuperare due partite a ritrovarsi poi con un calendario molto molto fitto ma questo presumo e ritengo che sia l'ultimo dei mali a mio giudizio sarà molto importante invece cercare di recuperare più presto e far sì che nel prossimo weekend a porte chiuse o a porte aperte qui non siamo noi cioè uomini di sport sì ma scusa cosa cambia una settimana però non è che una settimana tutto si risolve ma ti dico ormai quello che è stato è stato è inutile che andiamo a fare polemiche sul passato ormai qui come si dice in certe situazioni si chiude la porta quando i vuoi sono già usciti che sia stata fatta bene o male la strategia adottata lasciamo perdere dobbiamo guardare al futuro personalmente ritengo poi dico un'altra cosa poi chiudo che nel prossimo weekend si debba giocare regolarmente qui ci saranno i responsabili sanitari medici professori virologi che dovranno dare indicazioni sul fatto che si possa o meno giocare a porte aperte intanto la Lega di A2 di basket ha cancellato le final di Coppa Italia che si dovevano tenere a Ravenna quindi già lì è stato cancellato un evento e si è recuperato la data possibile perché può darsi che il campionato riprenda già domenica nel senso che si riprende si riprende dall'ultima giornata di stagione regolare poi si recupera in settimana ad esempio la Lega basket di Serie 1 femminile ha già comunicato che domenica si giocherà a porte chiuse Ligerano giocherà a porte chiuse invece la Lega di A2 per ora ha detto porte chiuse no Allora insomma a gran caos come abbiamo sentito anche nel mondo del calcio vi ricordiamo domani sera su Telestense non andranno in onda né basket in né lunedì sport chiaramente in conseguenza allo stop di alcune partite e anche di campionati Chiudiamo qua il nostro TV giornale grazie di essere stati con noi e buon proseguimento con i programmi di Telestense Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti.